Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti alla lettura di oggi. Andiamo wow, wow, cominciamo bene. Questa parte centrale della nostra stesa può riguardare qualsiasi ambito della vostra vita, che sia amore, lavoro, famiglia, progetti, amicizie, qualunque cosa. Vedremo più nello specifico l'amore nella seconda parte. Ma iniziamo con delle energie meravigliose, perché io direi che già bastano solo queste e possiamo anche chiudere, con un 2 di coppe, il sole e il 6 di denari. Cioè, che cosa volete che vi dica? Il 2 di coppe inizia tutto con la condivisione, condivisione meravigliosa fra noi e qualcuno. E appunto, indipendentemente dal fatto che si tratti di relazioni romantiche o relazioni di tipo professionale o familiare o amichevole, è bello, è bellissimo quando possiamo davvero condividere una parte di noi, le nostre emozioni, i nostri desideri e i nostri pensieri, spontaneamente e liberamente con qualcuno. Infatti, l'energia generata da questo incontro è quella del sole. Ci stiamo veramente godendo il momento, ci stiamo godendo la giornata, qualcosa di bello sta accadendo. E c'è un vero e proprio scambio, non solamente emotivo, ma anche uno scambio che per qualcuno potrebbe addirittura essere fisico e materiale. Potrebbe esserci quindi uno scambio di qualcosa, un io do qualcosa a te o tu dai qualcosa a me. Non deve essere necessariamente un dare e ricevere in termini monetari. Io posso, per esempio, pagare te per un qualcosa che tu in cambio mi dai, quindi non sullo stesso livello, ma cose diverse. Quindi io do soldi e tu mi dai qualcos'altro, oppure io ti do attenzioni e tu mi dai informazioni. Ecco, in realtà il 6 di denari rappresentando appunto i denari, la concretezza, fa pensare a qualcosa di molto materiale, di molto concreto. Per questo penso che per la maggior parte di noi si tratterà proprio di uno scambio di cose reali, fisiche, molto molto interessante e sarà anche un momento bello di gioia e di festeggiamento, tra virgolette, per qualcuno. Perché con la carta del sole, con quello che ci sta intorno, io direi che ce la stiamo spassando e siamo felici di quello che abbiamo, siamo felici di quello che stiamo vivendo e di come lo stiamo vivendo. Adesso aggiungiamo le altre carte, vediamo quali altri indizi, abbiamo la insegnanza, l'incapacità e il biasimo, abbiamo l'amistad e la papessa e lo sproblema se il consultante è rovesciato. Sembra che con questa energia meravigliosa riusciamo anche a risolvere dei problemini, riusciamo proprio ad uscire da una situazione in cui avremmo anche potuto biasimare qualcuno, accusarlo e colpevolizzarlo di qualcosa e invece no, ce la stiamo cavando alla grande, cercando di prendere il meglio dalle situazioni e soprattutto cercando di dare il meglio di noi stessi e il risultato in effetti è ottimale. Innanzitutto cominciamo dalle prime carte, la prima colonna, la prima colonna ci dice che qualcuno in effetti ha sbagliato, ha fatto degli errori, potremmo essere noi, potrebbe essere un'altra persona, ovviamente questo dipende dai vostri singoli casi specifici, però c'è un insegnamento dietro questi errori, la persona che ha sbagliato ha imparato e sicuramente questo insegnamento non se lo scorderà più, perché tutto è stato provocato dall'incapacità di fare qualcosa, dall'incapacità di agire, ecco a volte possiamo anche avere delle buone intenzioni, ma se poi sbagliamo il modo, facciamo danni. In questo caso non c'è un accusare, un colpevolizzare, ma semmai c'è un comprendere. Comprendere perché l'altro ha sbagliato, essere pronti a ascoltare. Ed è molto bello questo, perché posso anche dirti tu hai sbagliato, ma in base a come te lo dico, posso essere aggressiva, posso essere accusatoria, posso essere intimidatoria, ma se riesco ad essere comprensiva e dolce nel dirlo, tutto ciò che accade dall'altra parte è che questa cosa arriva pulita e diretta e quindi ecco che non c'è un rifiuto, non c'è un no però io di qua di là, no, c'è un prendere quello che io dico e prendere l'insegnamento degli errori fatti. Infatti con la carta del sole l'amicizia fra due anime è quella che prevale, la vicinanza è il riuscire a tirare appunto fuori ciascuno il meglio dell'altro, con la papessa perché la papessa è intelligente, la papessa magari a volte non è molto spontanea, ha bisogno di riflettere prima di fare le cose, prima di agire, ha bisogno di essere sicura di quello che sta facendo, però nel momento in cui poi agisce è molto facile che vada bene, che le cose le vadano bene, così come le ha premeditate, proprio perché ci ha pensato a lungo prima di farlo. Se noi o l'altra persona agisce da papessa stiamo davvero pensando bene, stiamo riflettendo ed ecco che appunto questo permette a queste due anime di mantenere l'amicizia, di mantenere il loro rapporto così com'è bello, forte e luminoso, tanto che anche se ci sono dei problemi e anche se uno dei due, poi potrebbe anche riguardare più persone per qualcuno di voi, però io mi limito a descrivere una situazione in cui almeno due persone sono coinvolte, ecco se una delle due, questo consultante, ha dei problemi per via di ciò che è accaduto, o ha dei problemi per cause esterne o per errori fatti, ecco che chi c'è dall'altra parte da una mano sicuramente aiuta, sicuramente, sicuramente se io, cioè se voi avete dei problemi potete oggi star tranquilli che dall'altra parte, oggi o nei giorni intorno ad oggi, che dall'altra parte ci sarà qualcuno non solo in grado di capire ma anche in grado di aiutare. La stessa cosa vale al contrario, se qualcuno nella vostra vita ha dei problemi sarete voi ad aiutare ed è un, c'è anche un sottofondo di amicizia in tutto questo, potrebbero per esempio, potrebbe questa stessa parlare di vecchie amicizie o addirittura di nuove amicizie che nascono proprio adesso, in certi casi, questo potrebbe essere un bel principio. Ma andiamo a vedere cosa accade invece al sacro maschile e al sacro femminile. Dunque, il nostro maschile con un quattro di denari e il femminile con la morte, interessante, il nostro maschile il negozio e l'inerzia. Eh dai, qua c'è un maschile che non sembrava nei giorni scorsi avere imparato qualcosa e invece no, invece no, sembrava pronto a trattare, finalmente, pronto a mettersi in gioco, cercando anche di comprendere quali sono le esigenze dell'altro. E invece, proprio quando era lì per trovare la strada giusta per fare le cose, si ferma. Questo è un maschile che si ferma e che non riesce a trovare la strada giusta per fare una trattativa come si deve. Poi la parola trattativa, quando si parla di amore, sembra una roba un po' materiale. Però alla fine è di questo che si tratta, cioè c'è sempre, in qualunque relazione, c'è sempre un compromesso, c'è sempre un doversi avvicinare l'uno all'altro. E qui c'è un maschile che non sta riuscendo, che sta fermo. Ovviamente, come sempre vi dico, sacro maschile e sacro femminile non significa uomo o donna, sono solo le energie che noi stiamo canalizzando in questo momento. Quindi ecco, potrete ritrovarvi più qui o più qui, in base alla vostra situazione specifica. Però di certo sì, di certo c'è stata una chiusura adesso, una chiusura in cui non si muove voglia. E va bene, nel frattempo il femminile con la tenacità della prosperità, il femminile tiene duro. Sì, qui abbiamo un femminile che tiene duro e che non ha paura di affrontare un cambiamento, una trasformazione. Anzi, qui abbiamo un femminile che sta proprio agendo in modo diverso rispetto a come agiva in passato. Ha imparato le sue lezioni il femminile, questo lo abbiamo visto ripetutamente nei nostri oracoli. E adesso abbiamo qua un femminile con la testa dura, che vuole assolutamente prendersi cura di sé, che vuole assolutamente star bene e che non si lascia più condizionare dalle azioni del maschile. Cosa prova per me? Mi cercherà? Impara a leggere la sua mente con il metodo Maio. Iscriviti ai nostri corsi e visita il sito internet www.vocidagliangeli.com Non è più disposto ad assecondare. Ecco, non è più disposto ad assecondare. Qui c'è un femminile che pensa per sé, che adesso ha la testa dura, che adesso non si lascia più manipolare, non si lascia più rigirare le frittate, sa quello che vuole e va verso quello che vuole. E se c'è un cambiamento da dover fare nel mezzo, che ben venga questo cambiamento. Vediamo però segno per segno cosa sta accadendo. E ovviamente ragazzi, intanto quelli di voi che vogliono una lettura privata o un pacchetto, o che vogliono informazioni sui videocorsi, possono tranquillamente contattarci. Trovate tutti i link per contattarci nel box in descrizione. Oggi le cartine qui sono un po' agitate. Sono un po' agitate, mentre mescolo, lo sto proprio notando. Ma vedremo cosa hanno da dirci. Vedremo. Ok. No, non ancora. L'ultima mescolata. Ora sì. Ora sì. Eccoci qui pronti per cominciare con l'Ariete. Ci sarà un nuovo inizio, caro Ariete. Devi semplicemente stare attento a non fidarti troppo di qualsiasi cosa. Toro. Stai per avere la risposta che aspettavi. Gemelli. Qui c'è poca serietà o poca onestà da parte di uno dei due. Cancro. Cavolo, cancro. Tu invece stai proprio per scoprire una grande verità. Leone. Ci sono dei sentimenti, caro Leone, però nessuno qui sta trovando il coraggio di fare una mossa. Vergine. Piccoli passi, cara vergine. Tutto si muove lentamente. Bilancia. Via libera. Via libera. Perché questa unione sembra proprio favorita dalle stelle. Scorpione. C'è altro in arrivo per voi. Occhi alti, come dicevano in Australia. Dicevano keep your eyes. Boh, non me lo ricordo. Comunque occhi alti significa guarda. Guarda cosa sta per arrivare. Sagittario. Qualcuno qui ha altre priorità. Ma sono giusta? Sono al sagittario? Sì, mi sembra di sì. Spero di non avere sbagliato. Capricorno. Questa cosa non ti sta portando da nessuna parte. O cambia atteggiamento o non ti arriva da nessuna parte. Cavolo, mi sono persa di nuovo. Non so. Capricorno. Spero di essere giusta. Capricorno. Questa persona ha diverse opzioni. Se dovessi sbagliare, ragazzi, sappiate che il caso non esiste. Anche questi errori fanno parte della lettura. Acquario. Le cose stanno evolvendo? Sì, ma lentamente. In effetti non è il caso di avere fretta in questo momento. Pesci. Qualcuno sta per venire da te. O meglio, qualcuno verrà da te. Però lo farà quando sarà troppo tardi, caro pesci. E adesso andiamo a vedere l'ultima carta di oggi con il nostro... Uh, sono già caduti. È già caduto il nostro oracolino angelico. Il consiglio dell'angelo oggi è, punto primo, cerca di vincere la tristezza se dovesse arrivare all'orizzonte. E sforzati di sorridere. E il secondo consiglio è quello di accettare i consigli. Quindi accetta il mio tanto per cominciare, accetta quello degli angeli. E accetta consigli se dovessero arrivare da fuori in questi giorni. Perché potrebbero esserti veramente utili. E con questo io ti mando un abbraccio e ci vediamo alla prossima.